Il grande fratello VIP Ivana e Luca stuzzicati da Ilari Blasi al grande fratello VIP, il pubblico non approva Grande fratello VIP, la storia tra Luca Onestini e Ivana Marazzova, Ilari Blasi stuzzica i due concorrenti. Nella finale del grande fratello VIP si torna a parlare di una coppia mancata, quella tra Luca Onestini e Ivana Marazzova. Ilari Blasi ha stuzzicato i due concorrenti portando a galla il loro grande feeling emerso nelle ultime settimane. Solo amicizia o qualcosa di più tra i due giovani? Nonostante le insinuazioni della conduttrice, spalleggiata dall'opinionista Alfonso Signorini, la modella cieca e l'extronista di Uomini e Donne hanno ribadito che non c'è nulla di romantico tra di loro. Solo ed esclusivamente una grande amicizia, nata grazie anche alla presenza di Giulia Delellis. Le parole di Luca Onestini su Ivana Marazzova. In particolare l'ex fidanzato di Soleil Sorgea ha menzionato Alessandro, il fidanzato di Ivana, rimarcando di avere molto rispetto nei suoi confronti. Ammiro molto Ivana. È una ragazza bella fuori ma soprattutto dentro. Abbiamo un bellissimo rapporto d'amicizia. Non dimentico che ha un ragazzo fuori, un ragazzo sicuramente fuori ha dichiarato l'ex mister Italia. Dello stesso avviso Lamrazova che ha seccamente replicato alla conduttrice del programma, come già detto l'altra volta per Ignazio, anche con Luca che è solo amicizia. La modella ha ricordato infatti le prime settimane della trasmissione, quando il ciclista ha provato in vano a corteggiarla. Il pubblico crede nell'amicizia tra Luca e Ivana. Il pubblico, soprattutto sui social network, si è schierato compatto dalla parte di Luca e Ivana, sono tanti telespettatori che credono al rapporto d'amicizia tra i due e non hanno particolarmente gradito le nuove insinuazioni dei conduttori del grande fratello VIP. Inizia 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 Ciao